Sì, secondo successo positivo perché è in trasferta. Noi dovevamo dimostrare che anche in trasferta siamo una squadra che può giocare a calcio e può giocarsela con tutti. Siamo venuti in un campo difficile dove il Santo D'Oro ha dimostrato essere una squadra unita e ben messa in campo. Noi dobbiamo cercare di migliorare un po' su certe situazioni dove la gestione palla, bisogna farla in certe situazioni della partita, va fatta con più personalità. Ma la personalità viene fuori partita dopo partita. Si è anche rischiato un po' un palo clamoroso nel secondo tempo per il Santo D'Oro che è andato vicinissimo al pareggio. Sì, l'abbiamo rischiato, ripeto, proprio perché abbiamo peccato d'esperienza. L'ha andata gestita la palla e invece su una gestione sbagliata abbiamo rischiato proprio questo gol dove prendiamo gol e la partita può finire anche in Parigi. Ministro, c'era qualche assenza però in settimana lei ha detto che in questo gruppo sono tutti all'altezza, quindi non si è guardato alle assenze ma a chi poteva dare una mano e ha dato una mano. Esatto, in questo gruppo, l'ho detto domenica a fine partita, è un gruppo dove chiunque può giocare e dimostrare che può indossare questa maglia importante. Oggi avevamo assenze importanti come Bianco, Ferraro, Piriotto, Saba all'uscita per infortunio, però ripeto, chi ha giocato ha dimostrato che possono giocare tranquillamente.